Il mese di settembre è un mese di ripartenza e torniamo tutti al lavoro con la giusta carica. Segnali positivi di crescita nel nostro paese vengono dal turismo, vengono dalla produzione industriale, vengono dall'Expo, che è stato uno straordinario successo e continua ad esserlo, e vengono oggi anche da alcuni dati che l'Istat ha offerto e che sono dati particolarmente significativi. Più 44 mila occupati, meno 143 mila disoccupati. Per chi è abituato a pensare alle cifre, alle statistiche, ai numeri, questi sono soltanto dei numerini, ma in realtà è molto di più, sono donne del sud che finalmente trovano una occupazione, sono cinquantenni che tornano ad avere una chance grazie al Jobs Act. È l'idea che il paese si rimetta in moto. Io credo che ciascuno di noi possa avere le proprie idee politiche, ma quello che è fondamentale oggi è che tutti insieme diamo una mano perché l'Italia torni a crescere, cosa che negli ultimi anni purtroppo non ha fatto. Negli ultimi anni è come se l'Italia avesse bucato la ruota o fosse caduta in una discesa e il gruppo dei paesi europei andava molto, molto, molto più forte. Gli ultimi dati che arrivano anche sulla crescita dimostrano una cosa molto semplice. Non siamo ancora la maglia rosa, non siamo quelli che crescono più di tutti, ma siamo tornati nel gruppo e siamo tornati nel gruppo grazie al percorso di riforme che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Io non mi accontento, io voglio un'Italia che sia la guida dell'Europa, io voglio che siamo in condizioni di tornare ad essere quello che siamo stati per tanti anni, ormai qualche decennio or sono, il punto di riferimento dell'economia europea e mondiale, ma per farlo c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Allora settembre inizia con dei numeri buoni, l'importante è che ai numeri facciano seguito le idee, la determinazione, la grinta, l'entusiasmo degli italiani che sono la più grande risorsa che il nostro paese ha.